Alla Tisana troviamo l'Istituto Tecnico Ploxner. Qui ragazze e ragazzi possono imparare diverse discipline tecniche. Si progettano e realizzano impianti civili e industriali. Linee automatiche e domotica. Nostra scuola ha un forte legame con il mondo del lavoro. Grazie all'istage in azienda. Visite guidato. E incontri con professionisti. Non mancano poi la robotica. La modellazione e stampa 3D. che sono fondamentali per i progetti svolti. Ti aspettiamo al Ploxner. Dal prossimo anno nascerà poi un percorso d'eccellenza di 4 anni che darà accesso sia all'IPS che all'università. Le materie saranno simili al percorso quinquennale con però l'aggiunta di laboratori per l'intelligenza artificiale, realtà aumentata e tanto altro.